Ciao, oggi ho scelto di pescare in basso fondale per cui ho bisogno di zavorarmi un po' più del solito utilizzerò questo schienalino particolare che adesso vi spiego velocemente è provvisto come vediamo di 4 alloggi per la zavorra dove è possibile addirittura inserire fino a 2 kg di piombo per tasca io in questo caso ho inserito 1 kg a tasca quindi saranno 4 kg la cosa interessante è che come potete vedere le tasche non sono tutte e quattro parallele ma seguono la linea della colonna vertebrale per cui danno meno fastidio, si muovono insieme al nostro corpo mentre facciamo la capovolta e così via ma la cosa più interessante è che questo schienalino è molto comodo da mettere basta semplicemente fare questo lavoro qua possiamo alternativamente decidere o di appoggiare questi elastici nei piombi davanti e dietro e avere quindi l'aggancio e lo sgancio abbastanza rapido o addirittura inserirli direttamente nella fibbia della cintura come vediamo compreso l'elastico che passa da sotto e in questo caso abbiamo il top dello sgancio rapido sgancio e si sfila completamente tutto vedete si perde cintura e schienalino in un attimo un'altra cosa molto interessante di questo schienalino è che taglia unica gli elastici sono regolabili una volta trovata la misura per la nostra taglia siamo a posto e quindi con un solo schienalino possiamo cambiare la muta possiamo aumentare e diminuire di peso e la taglia dello schienalino sarà sempre perfetta quindi sgancio rapido, semplice, è facile da usare in più come vediamo a queste frange i neoprene che vanno ad alzarsi sopra la nostra schiena quindi lo mimetizzano ci aiutano anzi a mimetizzarci durante l'aspetto devo doverosamente ringraziare Jack Kubedu con il quale abbiamo ideato insieme questo schienalino è partito da una sua idea poi l'abbiamo elaborata insieme quindi grazie Jack sei il numero uno prova a chiedere della linea accessori con tutti i suoi prodotti al tuo negoziante di fiducia se vuoi conoscere nuovi aggiornamenti per avere maggiori informazioni vai sul mio sito marcobardi.com poi seleziona attrezzature e infine linee accessori troverai tutto quello che ti serve oppure visita il sito ufficiale c4carbo se invece hai delle domande o delle curiosità su questo prodotto o su altri scrivilo direttamente sotto a questo video risponderò il prima possibile ciao per saperne di più segui Marco Bardi sui social network